Una task force contro i furti nelle abitazioni. A Padova i carabinieri hanno avviato un'azione importante per contrastare i reati contro il patrimonio, ma hanno anche diffuso un decalogo con alcune regole importanti per difendersi dai ladri. Eccole, rammentare di non lasciare mai casa nelle fasce orarie dalle 17 alle 18 e 30. In questo orario vengono commessi il 70% dei furti. Chiudere il portone di accesso al palazzo e possibilmente installare una telecamera, non aprire il portone o il cancello se non si sa chi ha suonato, installare dispositivi antifurto collegati possibilmente con il 112 è molto semplice, basta rivolgersi alla stazione dei carabinieri più vicina, non informare nessuno dei tipi di apparecchiatura di cui vi siete dotati, conservare oggetti di valore, soldi e documenti in cassaforte, murata al pavimento o in un altro luogo sicuro, aumentare le difese passive, porte blindate con spioncino, stranature di sicurezza, videocitofoni, telecamere a circuito chiuso, adottare serrature che prevedano chiavi non facilmente duplicabili e comunque non lasciarle a disposizione di persone non fidate, evitare di attaccare al portachiavi targhette con nome e indirizzo e mettere solo il cognome anche sul citofono e la cassetta della posta per evitare di indicare il numero effettivo degli inquilini. Se si abita in un piano basso, in una casa indipendente, mettere delle grate alle finestre oppure dei vetri antisfondamento, illuminare l'ingresso e le zone buie e se all'esterno c'è un interruttore della luce, proteggerlo con una grata o una cassetta metallica. Se si vive in una casa isolata, adottare un cane. Cercare di conoscere i vicini, scambiarsi i numeri di telefono per poterli contattare in caso di necessità. Non mettere al corrente tutte le persone dei vostri spostamenti, soprattutto in caso di assenze prolungate. Se si abita da soli, non farlo sapere a chiunque. In caso di assenza prolungata, avvisare solo persone di fiducia e concordare con loro dei controlli periodici. In caso di assenza breve, invece, lasciare una luce accesa o la radio in modo da mostrare che la casa è abitata. Non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino o in altri posti facilmente intuibili e vicino all'ingresso. Considerare che i primi posti esaminati dai ladri sono armati, cassetti, vestiti, interno dei vasi, quadri, letti e tappeti. Nel caso ci si accorga che la serratura è stata manomessa o che la porta è socchiusa, non entrare in casa e chiamare immediatamente il 112. E se si è iscritti ad un social network, non divulgare il posto dove si va in vacanza e il tempo in cui si resta lontano da casa. Non postare nemmeno le foto dell'interno delle abitazioni e altri particolari che le rendano appetibili ai malfattori. Tra le ultime raccomandazioni, segnalare sempre al 112 movimenti sospetti o persone sospette, tenere presente che la maggior parte dei furti avviene appunto nel tardo pomeriggio e perché i ladri approfittano del fatto che le famiglie sono riunite a cena e si introducono nelle altre stanze dell'abitazione.